Ancora un dramma sul raccordo anulare di Roma, perdere la vita nella sera di domenica è stata Alessia Sbalu, una giovane che lavorava come estetista. Il dramma è avvenuto all'altezza del chilometro 2600 in carreggiata interna tra l'Aurelia e lo svincolo di via Boccea. Secondo una prima ricostruzione Alessia sarebbe scesa dall'auto sulla corsia di emergenza e pochi istanti dopo è stata travolta. Nonostante l'intervento del 118 per la giovane non c'è stato nulla da fare.